Il tetto ai manager sarà operativo dalla prossima settimana, nel frattempo ci sarà la approvazione in sede legislativa di questo mini disegno di legge di tipo correttivo che non solo corregge alcune edizioni tecnicamente inappropriate ma estende anche alla pubblica amministrazione periferica il meccanismo dei tetti. Quindi nell'arco penso di un mese noi avremo non solo già il DPCM operante ma avremo anche la legge correttiva che eviterà contenziosi. Quindi operazione compiuta sia attraverso i pareri dati al decreto della Presidente del Consiglio sia attraverso questo testo che avendo un'amplissima maggioranza avrà tempi estremamente ravvicinati di approvazione con grande soddisfazione di tutti. Non lo so perché in questo momento penso che nessuno abbia la faccia tosta per fare un contenzioso per rivendicare la propria devianza di fronte a un tribunale o a una qualsiasi corte anche perché se a qualcuno non va bene il tetto può sempre prendere una decisione fondamentale andarsene. Grazie a tutti.